Simone Fornoni ho quattro gocce omeopatiche allora parlo un po' così facciamo il top 11 nella storia dell'Atalanta insieme? insieme faccia lei quando ho finito top 11 dei più grandi 11 ma se dobbiamo dividerli per ruolo passiamo in rassegna ruolo per ruolo si si portiere un portiere portiere più Luigi Pizzaballa io l'ho visto solo nei filmati ovviamente l'ho intervistato dal vivo un giorno una persona di una umanità di una saggezza straordinaria dei calciatori un po' artigiani e un po' artisti che esistevano negli anni 50 e 60 anche se lui è giocato fino a 79 fino ai 40 anni il migliore in assoluto in Porta è stato lui anche come rendimento anche per come me l'hanno raccontato i colleghi più esperti Pizzaballa in Porta non si muove difensori esterni puntiamo la difesa cosa succede? cosa succede? cosa succede Simone Fornoni? niente rifaccio il numero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti